fantasticheria una volta mentre il treno passava vicino alla citrezza voi affacciandovi allo sportello del vagone esclamaste vorrei starci un mese laggiù noi vi ritornammo e vi passammo non un mese ma 48 ore i terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci saresti rimasta un par d'anni la mattina del terzo giorno stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro e di contare i carri che passavano per via eravate alla stazione e gingillandovi impaziente con la catenella della vostra boccettina da odore allungavate il collo per scorgere un convoglio che non spuntava mai in quelle 48 ore facemmo tutto ciò che si può fare ad acitrezza passeggiammo nella polvere della strada e ci arrampicammo sugli scogli col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci passammo sul mare una notte romanticissima gettando le reti tanto per far qualche cosa che ai barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi e l'alba ci sorpresa in cima al faraglione un'alba modesta e pallida che ho ancora dinnanzi agli occhi striata di larghi riflessi violenti sul mare di un verde cupo raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano quasi raggomitolate sulla riva mentre in cima allo scoglio sul cielo trasparente e limpido si stampava netta la vostra figurina con le linee sapienti che vi metteva la vostra sarta e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi avevate un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell'alba un bel quadretto davvero e si indovinava che lo sapeste anche voi dal modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo e a quell'altra stranezza di trovarvici anche voi presente che cosa avveniva nella vostra testolina allora di faccia al sole nascente gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un mese diceste soltanto ingenuamente non capisco come si possa vivere qui tutta la vita eppure vedete la cosa è più facile che non sembri basta non possedere centomila lire di entrata prima di tutto e in compenso patire un po di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi incastonati nell'azzurro che vi facevano batter le mani per ammirazione così poco basta perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca trovino tra quelle loro casipole sgangherate pittoresche che viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch'esse tutto ciò che vi affannavate a cercare a parigi a nizza e a napoli è una cosa singolare ma forse non è male che sia così per voi e per tutti gli altri come voi quel mucchio di casipole è abitato da pescatori gente di mare dicono essi come altri direbbe gente di toga i quali hanno la pelle più dura del pane che mangiano quando ne mangiano perché il mare non è sempre gentile come allora che baciava i vostri guanti nelle sue giornate nere in cui bronto le sbuffa bisogna accontentarsi di stare a guardarlo dalla riva con le mani in mano o sdraiati i bocconi il che è meglio per chi non ha desinato in quei giorni c'è folla sull'uscio dell'osteria ma suonano pochi soldoni sulla latta del banco e i monelli che pullurano nel paese come se la miseria fosse un buon ingrasso strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo di tanto in tanto il tifo il colera la malannata la burrasca vengono a dare una buona spazzata in quel brulicame che davvero si crederebbe non dovesse desiderare di meglio che essere spazzato e scomparire eppure ripullula sempre nello stesso luogo non so dirvi come né perché vi siete mai trovata dopo una pioggia d'autunno a sbaragliare un esercito di formiche tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino torcendosi di spasimo ma tutte le altre dopo cinque minuti di panico e di via vai saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno voi non ci tornereste davvero e nemmeno io ma per poter comprendersi fatta caparbietà che è per certi aspetti eroica bisogna farci piccini anche noi chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle e guardare con microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori volete metterci un occhio anche voi a cotesta lente voi che guardate la vita dall'altro lato del cannocchiale lo spettacolo vi parrà strano e perciò forse vi divertirà noi siamo stati amicissimi ve ne rammentate e mi avete chiesto di dedicarvi qualche pagina perché a che bon come dite voi che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi conosce e per chi non vi conosce che cosa siete voi tant'è mi sono rammentato del vostro capriccio un giorno che ho rivisto quella povera donna cui sollevate farle lemosina col pretesto di comperare le sue arance messe in fila sul panchettino dinnanzi all'uscio ora il panchettino non c'è più hanno tagliato il nespolo nel cortile e la casa una finestra nuova la donna sola non aveva mutato stava un po più in là a stender la mano ai carrettieri accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il vecchio posto della guardia nazionale ed io girellando con il sigaro in bocca ho pensato che anche lei così povera com'è vi aveva visto passare bianca e superba non andate in collera se mi sono rammentato di voi in tal modo e a questo proposito oltre lieti ricordi che mi avete lasciati ne ho cento altri vaghi confusi disparati raccolti qua e là non so più dove forse alcuni sono ricordi di sogni fatti ad occhi aperti e nel guazzavuglio che facevano nella mia mente mentre io passavo per quella viuzza dove son passate tante cose liete e dolorose la mantellina di quella donnicciola freddolosa accoccolata poneva un non so che di triste e mi faceva pensare a voi sazia di tutto perfino dell'adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda citandovi spesso in capo alla cronaca elegante sazia così da inventare il capriccio di vedere il vostro nome sulle pagine di un libro quando scriverò il libro forse non ci penserete più intanto i ricordi che vi mando così lontani da voi in ogni senso da voi inebriata di feste di fiori vi faranno l'effetto di una brezza deliziosa in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale il giorno in cui ritornerete laggiù seppur vi ritornerete e sederemo accanto un'altra volta da spinger sassi col piede e fantasie col pensiero parleremo forse di quelle altre brezze che ha la vita altrove potete anche immaginare che il mio pensiero sia si raccolto in quel cantuccio ignorato del mondo perché il vostro piede vi si è posato o per distogliere i miei occhi dall'uccichio che vi segue dappertutto sia di gemme o di febbri oppure perché vi ho cercato inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti vedete quindi che siete sempre al primo posto qui come al teatro vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca voi gli dovete questo tributo di riconoscenza perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre belle calze alzurre ora è morto laggiù all'ospedale della città il povero diavolo in una gran corsia tutta bianca fra dei lenzuoli bianchi masticando del pane bianco servito dalle bianche mani delle suore di carità le quali non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini guai che il poveretto biaccicava nel suo dialetto semibarbaro ma se avesse potuto desiderare qualche cosa egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero vicino al focolare dove tanti anni era stata la sua cuccia sotto le tegole tante che quando lo portarono via piangeva guaiolando come fanno i vecchi egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi e di faccia a quel mare bello e traditore col quale dove lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli le ossa eppure in quei momenti in cui si godeva cheto cheto la sua occhiata di sole accoccolato sulla pedagna della barca coi ginocchi fra le braccia non avrebbe voltato la testa per vedervi ed avreste cercato in vano in quegli occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza come quando tante fronti altere si inchinano a far viala nei saloni splendenti e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche la vita è ricca come vedete nella sua inesauribile varietà e voi potete godervi senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi a modo vostro quella ragazza per esempio che faceva capolino dietro i vasi di basilico quando il fruscio della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza se vedeva un altro viso notissimo alla finestra di faccia sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch'essa chissà quali povere gioie sognava su quel davanzale dietro quel basilico odoroso con gli occhi intenti in quell'altra casa coronata di tralci di vite e il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire in lacrime amare là nella città grande lontana dai sassi che l'avevano vista nascere e la conoscevano se il suo nonno non fosse morto all'ospedale e suo padre non si fosse annegato e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva soffiato sopra un colpo di vento funesto che aveva trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carceri di pantelleria nei guai come dicono laggiù miglior sorte toccò a quelli che morirono alissa l'uno il più grande quello che vi sembrava un david di rame ritto con la sua fiocena in pugno e illuminato bruscamente dalla fiamma dell'ellera grande e grosso com'era si faceva di braccia anch'esso quando gli fissavate in volto i occhi arditi non di meno è morto da buon marinaio sulla verga di trinchetto fermo al sartiame levando in alto il berretto e salutando un'ultima volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido di isolano altro quell'uomo che sull'isolotto non osava toccarvi il piede per liberarlo dal lacciolo teso ai conigli nel quale veravate impigliata da stordita che siete si perde in una fosca notte d'inverno solo fra i cavalloni scatenati quando fra la barca e il lido dove stavano ad aspettarvi i suoi andando di qua e di là come pazzi c'erano sessanta miglia di tenebri di tempesta voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio fosse capace per lottare contro tal morte quell'uomo che lasciava si intimidire dal capolavoro del vostro calzolaio meglio per loro che sono morti e non mangiano il pane del re come quel poveretto che è rimasto a pantelleria o quell'altro pane che mangia la sorella e non vanno attorno e non vanno attorno come la donna delle arance a viver della grazia di dio una grazia assai magra ad acitrezza quelli almeno non hanno più bisogno di nulla lo disse anche il ragazzo dello stessa l'ultima volta che andò all'ospedale per chiedere del vecchio e portargli di nascosto di quelle chiocciole stufate che sono così buone a succhiare per chi non ha più denti e trovò il letto vuoto con le coperte belle e distese sicché sgattaiolando nella corte andò a piantarsi dinnanzi a una porta tutta brandelli di cartacce sbirciando dal buco della chiave una gran sala vuota sonora e fredda anche di estate e le estremità di una lunga tavola di marmo su cui era buttato un lenzuolo greve e rigido e pensando che quelli là almeno non avevano più bisogno di nulla si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non servivano più per passare il tempo poi stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra vi rammenterete con piacere che gli avete dato cento lire al povero vecchio ora rimangono quei monnelluci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance rimangono a ronzare attorno alla mendica e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane a raccattar torsi di cavolo bucce d'arancia e mozziconi di sigari tutte quelle cose che si lasciano cadere per via ma che pure devono avere ancora qualche valore poiché c'è della povera gente che ci campa su si campa anzi così bene che quei pezzentelli paffuti affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada e si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno e popoleranno a citrezza di altri pezzentelli i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno come il vecchio nonno senza desiderare altro solo pregando il dio di chiudere gli occhi là dove li hanno aperti in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sul lacinello come gesù ad aiutare la buona gente che se ne va insomma ideale dell'ostrica direte voi proprio l'ideale dell'ostrica e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo che quello di non esser nati ostri che anche noi peraltro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere mentre seminava principi di qua e duchesse di là questa rassegnazione coraggiosa ad una vita distenti questa religione della famiglia che si riverbero sul mestiere sulla casa e sui sassi che la circondano mi sembrano forse per quel quarto d'ora cose serissime e rispettabilissime anch'esse sembrami che le irrequietudine del pensiero vagabondo si addormenterebbero dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti semplici che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione sembrami che potrei vedervi passare al gran trotto dei vostri cavalli col tintinio allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente forse perché ho troppo cercato di scorgere entro il turbine che vi circonda e vi segue mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenace affezioni dei deboli nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita e ho cercato di decifrare il dramma modesto ignoto che deve aver sgominato gli attori plebei che conoscemmo insieme un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò che allora quando uno di quei piccoli o più debole o più incauto o più egoista degli altri volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto per brama di meglio o per curiosità di conoscere il mondo il mondo da pesce volace che gli è se lo ingoiò e i suoi più prossimi con lui e sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca di interesse per le ostriche l'argomento più interessante deve essere quello che tratta delle insidie del gambero o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio non manca di interesse per l'argomento più interessante non manca di interesse per l'argomento più interessante